Ciao a tutti, ci siamo quasi. È marzo ormai, le temperature stanno risalendo. Tanti dicono sì, ma l'acqua non è ancora ottimale. Può non essere ancora ottimale, però dipende per cosa si cerca. Per i pescioni può essere uno dei momenti migliori questo. E quindi provateci, perché in questo momento può essere veramente ottimo. E se volete venire a farvi un giro qua, mi contattate per qualsiasi cosa, una guida. E io sono qua. Ciao a tutti. Ciao. Adesso, come sempre, vi rilascio. Questa è un bel pescione, ragazzi. Questo è un bel pescione. 2,5 e 40. Bel pescione. Inizio stagione. Ultimo shot, prima del rilascio. Questa bella mamma. Questa mifona qui. Vai, bella. Questa. Questa. Grazie a tutti